Khabib ha stilato il suo personalissimo father's plan, se così vogliamo definirlo, per il resto della carriera di Islam Mahachev e se fosse per lui non mancherebbe poi così tanto al ritiro del suo amico fraterno. Sigla e ne parliamo! Tema caldo, tema uscito nelle ultime ore, negli ultimi giorni e che riguarda Khabib e Islam Mahachev. Sappiamo che Khabib ha avuto una carriera assolutamente dominante, immacolata, perfetta è l'aggettivo giusto, almeno dal punto di vista dello score 29-0, forse la carriera più dominante nella storia di questo sport ma c'è sempre stato un po' un asterisco, se vogliamo, almeno da parte di qualcuno, del si è ritirato troppo presto ed è anche uno dei motivi per cui quando si parla della questione GOT c'è qualcuno che dice no Khabib non può essere considerato il GOT e non può essere messo nella lista ristretta, diciamo, dei fighter considerati per il GOT perché appunto si è ritirato proprio presto, poche difese titolate, pochi avversari di alto livello e di gran nome e questo appunto è l'unico asterisco che molte persone mettono a una carriera, a una legacy che da un punto di vista appunto dello score è assolutamente perfetta. Ovviamente per quanto riguarda le motivazioni del ritiro di The Eagle sono assolutamente comprensibili, condivisibili e ineccepibili aggiungo perché non sta assolutamente a noi giudicare una questione di quel tipo però da un punto di vista prettamente sportivo e competitivo è chiaro che a tutti sarebbe piaciuto vederlo combattere ancora vederlo combattere più a lungo anche perché d'altronde Khabib adesso nel 2022 ha soltanto ancora 34 anni quindi avrebbe ancora tantissimo da dare e avrebbe avuto ancora tantissimo da dare a questo sport. Io ho detto più volte la mia su questo tema e personalmente non credo che Khabib tornera mai già pensavo che non sarebbe mai tornato prima, adesso ha maggior ragione con l'inizio del regno titolato di Islam Mahajer che a tutti riflettò i puntati su di sé ed è uno dei nomi più grossi e più importanti della UFC al momento quindi in ogni caso non credevo comunque in un ritorno di Khabib, men che meno adesso. indipendentemente da questo però, indipendentemente dai motivi che l'hanno portato a decidere di ritirarsi in quell'esatto momento dopo il match con Justin Gaethje e UFC 254 Khabib già in passato aveva detto, avevamo pubblicato anche un video tradotto su questo canale un anno fa forse addirittura Khabib già quando era 24-25 anni, comunque già in generale anni fa, sapeva, aveva già detto che non si sarebbe mai ritirato troppo tardi perché ha sempre avuto nella sua testa questa questione che poi effettivamente è vera che prima o poi lo sport come la dice lui ti lascia, nel senso che prima o poi il tuo corpo non è più in grado di competere a livello a cui era in grado di competere prima, non è più in grado di stare dietro alle nuove leve che arrivano più giovani, più affamate, più in forma fisicamente per quanto uno si allegni perché la natura è fatta così proprio di questo tema ha parlato nuovamente negli ultimi giorni perché è uscita la questione sulla carriera, sul percorso che comincia da adesso da campione per Islam Akhachev. Islam Akhachev sappiamo che in passato ha parlato anche di voler difendere il titolo più volte di voler superare le difese titolate di Khabib, che comunque sono soltanto tre quindi è un qualcosa che vedendo anche l'età di Islam Akhachev che adesso ha 31 anni è assolutamente fattibile almeno da un punto di vista grafico, vedremo poi da un punto di vista di matchup e da un punto di vista proprio di risultati ma poi ha detto anche Akhachev in passato di avere come idea, e come idea anche piuttosto concreta quella di salire anche nei pesi welter perché vuole provare a diventare champ champ quella cosa che sta provando a fare adesso Volkanovski proprio contro di lui a UFC 284 ovviamente tutti questi discorsi se Islam Akhachev non riuscirà a battere Alexander Volkanovski saranno sostanzialmente inutili e parole al vento, però di questo ne parleremo poi a tempo debito detto ciò Khabib ha detto che come percorso, come carriera di Islam Akhachev adesso che è diventato campione prevede un numero di difese titolate che secondo lui dovrebbe essere 5 o 6, ha detto tendenzialmente 6 divise diciamo spalmate su 3 anni circa questa è l'idea un po' di Khabib dopo questo tempo, dopo questi anni, dopo queste difese titolate quindi appunto sostanzialmente soltanto 3 anni lo sport potrebbe lasciarlo perché nessuno è in grado di rimanere al top per sempre quindi secondo Khabib la carriera di Islam Akhachev sostanzialmente potrebbe terminare o comunque dovrebbe forse da un certo punto di vista terminare verso i 34 anni indipendentemente da se sarà ancora campione, se non sarà ancora campione dal numero di difese titolate e quant'altro e Khabib, da specificare anche questo, non ha parlato di una sua salita nei pesi welter di un suo tentativo di diventare champ champ è un qualcosa che Khabib non ha mai voluto fare già di per sé e ne ha parlato più volte, ha detto io sono un peso leggero nei pesi welter sono più grossi che poi in realtà sappiamo che dal punto di vista della stazza Khabib poteva assolutamente combattere nei pesi welter questo è un altro diciamo degli asterischi che si mettono alla sua legacy, uno dei pochi perché poi, a parte questo, come abbiamo detto 3 secondi fa ha una carriera sostanzialmente perfetta però, appunto, Khabib che non sempre è interessato ad un lunghissimo regno titolato da parte di Islam Akhachev né ad un suo tentativo di diventare champ champ ora, l'ultima parola ad un certo punto di vista sappiamo che spetterà ovviamente e spetta sempre all'atleta in questione quindi, in questo caso, a Islam Akhachev ma sappiamo anche la simbiosi che c'è tra Khabib e Islam e, in generale, in tutto quel team in tutta quella stable, se così vogliamo chiamarla quindi, sarà molto interessante vedere in futuro che cosa succederà Islam Akhachev, a riguardo, non ha detto nulla non ha parlato di tempistiche per un ritiro ha soltanto parlato di quello che vuole come obiettivo e adesso l'obiettivo è diventare numero 1 pound for pound e ci riuscirà, molto probabilmente, in caso di vittoria contro Alexander Volkanovski non dovrebbe sorprendere nessuno se così fosse perché Volkanovski al momento è il numero 1 e Islam Akhachev sta cercando, appunto, mentre difende il suo titolo e Volkanovski sta cercando di diventare champ champ Islam Akhachev cerca lo status di numero 1 pound for pound che raggiungerebbe veramente presto rispetto a quando ha conquistato il titolo quindi alla prima difesa titolata, sostanzialmente qualora dovesse vincere contro Volk a Perth in Australia e poi, l'idea di Islam Akhachev sarebbe anche quella di salire nei Paisy Welter ovviamente, quello che ha stilato Khabib come piano è un piano in cui Islam Akhachev combattebbe non più di due volte l'anno, sostanzialmente però, ovviamente, col passare degli anni, se l'idea è di fare queste difese titolate e di metterle in cascina, sostanzialmente non ci sarà poi il tempo, se effettivamente Akhachev si ritirerà verso i 34-35 anni, di tentare anche l'assalto nei Paisy Welter è molto interessante la questione del numero di difese titolate la questione degli anni che secondo Khabib resterebbero Islam Akhachev prima di rischiare di iniziare a perdere, di iniziare a perdere male magari come è successo a Tyrone Woodley, come è successo a Tony Ferguson come è successo anche ad esempio a Masvidal e quant'altro in particolare i casi di Tyrone Woodley e Tony Ferguson sono quelli un po' più eclatanti perché Tyrone Woodley era campione fino a che poi non ha più vinto e Tony Ferguson aveva una striscia di vittorie consecutive clamorosa fino a che poi non ha più vinto Khabib ha sempre voluto evitare quello per se stesso in generale per i suoi assistiti, per i suoi amici, per tutto il suo gruppo e sicuramente questo è ciò su cui spingerà in futuro tra questi 3-4 anni ipoteticamente perché la sua idea, effettivamente questa qui per quanto riguarda uno sport che è molto crudele da questo punto di vista Khabib durante quest'intervista con Red Corner MMA ha proprio detto sei giovane fino a un certo punto fino a che poi non sei più giovane e sei vecchio e il rischio è proprio questo e lo vediamo tantissime volte, è vero ovviamente però diciamo che già il fatto di sapere che ci sia una scadenza o comunque di mettere una sorta di scadenza di Khabib nei confronti di Islam Akhachev un po' lascia la mano in bocca perché chiaramente si inizia quasi a contare come per dire ok, adesso ne mancano 6, ne mancano 5 non mancano più 3 anni, ne mancano 2 e ovviamente la speranza è di vedere un atleta un fighter come Islam Akhachev il più a lungo possibile in UFC indipendentemente che sia campione o meno anche perché poi chiaramente questo è il piano e Islam Akhachev da un punto di vista di skillset ha tutte le carte in regola per poter instaurare un dominio sulla divisione presi leggeri così come ha fatto Khabib però va anche detto che i contender oltre ad essere molto affamati e ad essercene sempre di più sono anche di altissimo livello soprattutto nella divisione presi leggeri quindi bisogna vedere se poi effettivamente riuscirà a portare a termine questo piano però appunto un piano che sostanzialmente avrebbe già una data di scadenza almeno stando a Khabib Islam Akhachev è stato un po' più vago quando ha parlato dei suoi piani futuri è stato anche un po' più diciamo aperto anzi ha detto in realtà apertamente di voler salire anche nei presi welter quindi secondo me prima o poi Islam Akhachev un tentativo di salire nei welter se riuscirà ad essere dominante nei presi leggeri lo farà questo ovviamente ce lo dirà soltanto il tempo prima di tutto però la cosa più importante adesso per il loro team in generale per la divisione presi leggeri sarà UFC 284 l'11 febbraio Islam Akhachev contro Alexander Volkanovski per lo status di champ champ di Volkanovski per lo status di numero 1 pound for pound per Islam Akhachev e direi che fino a quel momento lì tutti gli altri scorsi sono piuttosto superflui iscrivetevi al canale lasciate un like al video fateci sapere che cosa ne pensate dell'idea di Khabib e se invece credete che sia necessario anche per la legacy di Islam Akhachev combattere un po' più a lungo cercare di difendere il titolo un po' più a lungo e magari anche tentare l'assalto allo status di champ champ e ci vediamo nel prossimo video un po' più a lungo un po' più a lungo e quindi un po' più a lungo e quindi